Stefano Ferraro, buongiorno, è avvocato, consigliere comunale di maggioranza a Sandona di Piave e amico di infanzia del dottore Attilio Manca, giusto? Sì, io conoscevo Attilio perché eravamo vicini di casa, le nostre mamme erano amiche, siamo nati entrambi qui a Sandona di Piave, poi i casi della vita ci hanno portato a Caorle, i nostri genitori erano insegnanti, vivevamo in condomini di rimpetai uno di fronte all'altro e quindi da bambini, da bambinetti proprio abbiamo sempre giocato assieme, erano proprio gli amichetti di infanzia e ho dei bellissimi ricordi con lui, un sorriso splendido, un occhio vivo, intelligente e a me piace ricordare anche attraverso queste manifestazioni, queste commemorazioni, un Attilio vivo, vitale, con la mente fresca, con la voglia di vivere, non tanto un Attilio che poi appunto ha avuto questa disgraziata fine e quindi ricordarlo anche attraverso queste iniziative per condividere assieme un'esperienza e per condividere assieme un percorso, per ricordarcelo vivo e per ricordarcelo poi anche ovviamente con la fine che ha fatto. Mi ricorderò sempre anche il volto di mio padre che è mancato qualche mese fa quando dai giornali e telegiornali abbiamo preso la notizia, lui mi ha guardato e mi ha detto ma! Per cui così noi che lo conoscevamo da quando era bambinetto un dubbio l'abbiamo sempre avuto.